Bene, grazie per essere venuti. Questa occasione per noi è importante per più ragioni. La seconda ragione è l'importanza del testo. La seconda ragione è cosa significa questo testo per Venezia, per la storia di Venezia, per la cultura veneziana e per chi a Venezia da Venezia in Venezia lavora su testi di questo genere. Avete visto nel programma, in questo piccolo invito che è stato diffuso, come ci sia un collegamento abbastanza forte tra la presentazione di questo volume e il passato dell'istituto, il passato della storia della ricerca in Venezia attraverso un personaggio che stasera inevitabilmente e con molto piacere ricorderemo, che è Gaetano Cozzi. Nel tempo stesso è anche un po' una festa per un'altra ragione, cioè Corrado Pin, e poi ce ne parlerà, ha finalmente, già da qualche tempo, comunque concluso il lavoro di edizione del Trattato Sarpiano sopra l'ufficio dell'Inquisizione. Sull'ufficio dell'Inquisizione non dirò niente perché farei pessima figura a fronte delle altre persone che sono qui a questo tavolo. Voglio solo segnalare l'importanza e la logica di questo testo che abbiamo cercato di evidenziare in quei due piccoli brani che abbiamo riportato in fondo all'invito, che sono la testimonianza di una qualità dello Stato veneziano, di una qualità delle persone, delle competenze che lo Stato veneziano ha saputo utilizzare. Io credo che l'avere condotto a termine l'edizione critica di un testo così importante sia una sorta di festa. il testo verrà pubblicato finalmente e sia anche il modo per ricordare un po' una tradizione di studi della nostra città, una tradizione che si lega nel caso specifico a Gaetano Cozzi, ma a quell'ambiente che ha saputo impegnarsi, che tuttora si impegna in questo tipo di attività. Io procederei secondo i termini e i passaggi che sono indicati nell'invito. Io dovevo dire due parole, due parole le ho dette e direi anzitutto a Corrado Pin di spiegarci il senso del suo lavoro, il modo in cui l'ha fatto, quello che ha colto e che intende proporci subito, dandoci poi appuntamento per quando, spero tra non molto, il volume sarà pubblicato. Prego, Corrado. Buonasera. Quando nel 2013 accettai l'invito di Ugo Baldini, beh intanto devo ringraziare per l'invito il professore Ortalli e poi anche per il professore Prosperi che si è dato molto da fare perché l'iter della pubblicazione andasse in porto. E comincio. Quando nel 2013 accettai l'invito di Ugo Baldini e degli amici del Dipartimento di Scienze Politiche di Padova a partecipare alla giornata di studio La polemica europea sul sant'uffizio dell'inquisizione sull'indice dei libri proibiti, secolo XVI-1965, per parlare del trattato sarpiano sull'inquisizione, con sorpresa dovetti prendere atto che nella romai vastissima bibliografia di Paolo Sarpi a quella celebre opera, tenuta in grande considerazione dagli storici dell'inquisizione, non era riservata in realtà nessuna specifica monografia. Con sorpresa perché quell'opera aveva avuto per secoli una fortuna straordinaria, testimoniata da una notevole diffusione a stampa nel VI e Settecento, tanto da risultare solo seconda all'istoria del concilio tridentino, contribuendo, come è stato sostenuto, a far di Sarpi l'autore italiano più tradotto all'estero. La prima per importanza a giudizio del più autorevole e studioso di Sarpi Gaetano Cozzi, tra quelle politico-religiose, da lui definita nella classica antologia ricciardiana delle opere del 1969, splendida, lucida e vigorosa. Pur riedito nel 1958 con la consueta perizia da Giovanni Gambarin nella collana La Terziana degli Iscrittori d'Italia, quel trattato come opera se è stato quindi lasciato sistematicamente in margine, o se ne sono presi in considerazione solo limitati aspetti, in particolare quello sul tema della censura e della stampa. A ribadire questa impressione, infine, è sintomatico che persino nella voce dedicata a Paolo Sarpi nel recente e importantissimo dizionario storico dell'Inquisizione, diretto da Adriano Prosperi, il trattato ha un ruolo del tutto marginale, un silenzio generale o una mancata attenzione decisamente sospetti. E qui, in occasione del presente incontro, la scelta di accennare alla fortuna e alla sfortuna del nostro trattato, privilegiando le ragioni della sua inspiegabile, per molti versi, odierna sfortuna. Benché l'incontro di oggi abbia come centro la presentazione del testo, del trattato, mi guarderò bene dall'entrare nella poco attraente questione dei criteri filologici e della nuova edizione, limitando gli accenni a quanto attinente appunto alla fortuna e sfortuna del trattato, e osservando intanto che se compito di un'edizione critica è quello di offrire un testo, per dirla con Armando Balduino, che, cito, in ogni sua parte possa essere considerato come autentica e definitiva espressione della volontà del suo autore, per il nostro trattato la presenza del manoscritto ideografo o parzialmente autografo, consegnato da Sarpi al destinatario, in questo caso il Senato veneziano, con tanto di sottoscrizione autografa e di data di consegna, garantisce e garantiva da sempre gli elementi richiesti per fissare, fuori di ogni dubbio, il testo definitivo dell'opera, non soggetta ad alcuna ulteriore rielaborazione, come ancora oggi invece generalmente creduto. Un perfetto originale. È vero che del nostro trattato si era conservata anche la minuta in gran parte autografa, travagliatissima, con aggiunte correzioni e ampi rifacimenti dell'autore, ma proprio perché a uno stadio non definitivo non poteva rispondere ai requisiti sopra ricordati. Eppure, per questione come si vedrà di fortuna e sfortuna, il nostro trattato dalla prima edizione stampa del 1638 all'ultima del 1958 ci giungerà attraverso il testimone della minuta e ignorando del tutto il testo originale, con le inevitabili, anche se non vistose, varianti formali e di contenuto. E vengo al nostro tema. A fare da protagonista della storia della fortuna e per certi versi della sfortuna del nostro trattato, troviamo il confratello di Paolo Sarpi e suo successore nel ruolo di consultore in jure della Repubblica Veneta, fra Fulgenzio Micanzio, il quale Micanzio nella Vita del Padre Paolo, uscita in stampa a lei da nel 1646, ma circolante manoscritta per l'Europa già in anni precedenti, scriveva «Ho veduta in mano da alcuni del governo, governo veneziano, una longa scrittura a penna, che tratta dell'uffizio della santa inquisizione di Venezia e di tutto lo Stato, fatta di comandamento pubblico. E sebbene pare ristretta solo agli usi della serenissima Repubblica, è però una pezza singolarissima, degna per le cause isquisitissime e rarissime che contiene, che tutti i principi, come gemma preziosa, la procacciassero. Ma si può credere che quei signori che l'hanno ne conoscono il valore e siano per tenerla come gemme». Parole povere, se lo tengono per sé. Lascio le tante osservazioni che si potrebbero fare a commento di questo passo, curiosamente reticente nel più sottile stile barocco, anzitutto circa l'informazione sulla longa scrittura a penna, dunque manoscritta, in vero ormai circolante a stampa per l'Europa in numerose edizioni a partire, come già detto, dal 1638. Orbene, informa Micanzio, quella longa scrittura non solo gli è interdetta, ma quei signori, una ristretta cerche di patrizi, alcuni del governo, la tengono segreta, gelosi di possedere una gemma preziosa. Insomma, lamentami Canzio, ci sono qui a Venezia responsabili politici che possiedono un tesoro e lo tengono inspiegabilmente nascosto. Se fosse per me lo metterei a disposizione di tutti i sovrani per le cause squisitissime e rarissime che contiene. A informarci come stessero veramente le cose vengono in aiuto recenti ricerche di studiosi stranieri italiani, faccio due nomi e poi non ne faccio più, Mario Infelise e Antonella Barzasi, che ci ricordano come già nel dicembre del 1626, a meno di quattro anni dalla morte di Sarpi, a un giovane parigino presente a Venezia, François-Auguste Dottou, figlio ventenne del defunto presidente del Parlamento di Parigi, Jacques Auguste, celebre storico e corrispondente di Sarpi, Micanzio aveva promesso di fornire, così il de tout ai fratelli Dupuis, Pierre e Jacques, un traité de l'origine de l'Inquisition et comme elle se doit maneggiare. Opera aggiungeva, incuriosendo ulteriormente l'ambiente parigino, che Micanzio gli aveva decantato come «la plus belle pièce qu'il est faite». «Pièce», vedremo poi, o abbiamo sentito «pezza», dice Micanzio. Per farla breve, nonostante le letterate dichiarazioni di disponibilità di Micanzio di «retirer le traité» dalle mani di un suo amico che lo possedeva, «le tienne for cher», il de tout finirà per lasciare Venezia senza nulla di fatto, proprio come deplorato nella vita del padre Paolo. Chi poi fosse quell'amico di Micanzio, il de tout lo indicava senza bisogno di presentazione, essendo personaggio ben conosciuto nel mondo erudito europeo. Quel libro scriveva «È entre les mains de Domenico Molini, irremovibile nel non concederne coppia, poiché, questa è la ragione addotta dal patrizio veneziano, si trattava di una scrittura di stato, public. Insomma, concludeva sconfortato il de tout, queste persone sono extrêmement jaloux de ceux qui l'ont. Ma nonostante queste ferre preclusioni, una copia del trattato sull'Inquisizione finiva per passare le Alpi, raggiungendo il circolo paricino dei Dupuis. Per quale vie non sappiamo, né in che momento preciso, ma già nel 1632 quel manoscritto era oggetto di diffusione in Europa, conosciuto da molti, tra cui Ugo Grozio, che si complimentava entusiasta per l'importante presenza nella biblioteca dei Dupuis di un'opera prodotta da quel grande personaggio, de ce grand personnage, dice Grozio, che aveva superato di molto l'esprit de nos siècle, e non era secondo ad alcuno degli antichi ne sede a aucun des anciens. A voler fare uscire quella scrittura sarpiana dalla prestigiosa biblioteca parigina con l'intento di mandare alle stampe, era poi lo stesso Grozio, che nel 1635, ritornato a Parigi come ambasciatore della Svezia, disegnava di pubblicare con altre opere di Sarpi il De Ecclesiarum Immunitate e il Librum de Inquisizione. Nell'ambizioso progetto non si farà al momento nulla, ma per il trattato sarpiano l'appuntamento editoriale era rinviato di solo i tre anni. Sulla scena internazionale, dopo l'istoria del concilio tridentino e l'istoria dell'interdetto, tornava così ad affacciarsi il nome di Fra Paolo, il grande teologo veneziano che godeva nell'Europa anticuriale di altissima considerazione e con un libro che richiamava l'attenzione sul seducente tema dell'inquisizione romana e veneziana. Il successo dell'opera sarpiana era stato subito straordinario. La prima edizione del 1638, uscita con falsa indicazione di editore di stampa, ma probabilmente di origine ginevrina o lionese, portava il titolo accattivante di Istoria della Sacra Inquisizione. Titolo tanto sensazionale quanto fuorviante, a cui l'editore prudentemente rimediava con il sottotitolo decisamente più calzante, Istoria dell'Inquisizione e particolarmente della Veneta, coi motivi per la quale la Serenissima Repubblica di Venezia fece già diverse ordinazioni intorno a tal materia. Erano seguite fra il 1638 e il 1639, senza indicazione di luogo, di stampatore o con nomi di fantasia, ma tutte con il titolo Discorso dell'origine, forma, legge e uso dell'ufficio dell'inquisizione nella città e dominio di Venezia, che sarà poi quello ordinario nei secoli seguenti. Erano uscite, dicevo, altre edizioni in italiano, una traduzione inglese a opera di Robert Gentili, figlio del celebre giurista Alberico, e nel 1651, oltre a un'edizione in olandese, la versione latina dovuta ad Andrea Scolvius, che garantirà all'opera sarpiana con quelle già ricordate una diffusione sorprendente. E alla grande diffusione editoriale faceva riscontro al Tralpe un interesse culturale altrettanto vivace per un'opera ricca di contenuti nuovi e di proposte originali, che resteranno fondamentali nel dibattito secolare sull'inquisizione e a cui riguarderanno come punto di riferimento obbligato quanti scriveranno con spirito critico all'inquisizione romana da Philippe van Limburg a Jacques Marsolier a Claude Pierre Gouget e vari altri, Giannone compreso. Sicuramente aveva colpito l'impostazione storica di questo primo storico italiano della materia, così Adriano Prosperi, storia che fissava nel Medioevo, non esistente pertanto nei primi secoli della Chiesa, le origini dell'inquisizione, che seguiva l'affermarsi nel contesto della nascita degli ordini mendicanti, Domenicano e Francescano, esecutori di quell'inquisizione pontificia al cui insediamento in laguna i veneziani per tutto il 200 avevano posto tenaci resistenze. Ma aveva suscitato altrettanto interesse l'illustrazione fornita da Fra Paolo della forma, leggi e uso dell'ufficio dell'inquisizione nella città e dominio di Venezia, come recitava il titolo delle stampe, in cui spiccava la costante opposizione della Repubblica Veneta all'invadenza pontificia negli affari dello Stato attraverso lo strumento dell'inquisizione, il controllo dei tribunali inquisitoriali grazie all'assistenza del giudice laico a tutte le fasi processuali, il limite posto alla censura ecclesiastica dei libri, l'esclusione dalla giurisdizione inquisitoriale di greci ortodossi, ebrei, marrani e saraceni e l'esclusiva pertinenza al tribunale laico della bestegna non ereticale e soprattutto di quanto riguardava magia e stregoneria e altro ancora. Insomma, una visione nuova che faceva del trattato sarpiano un vero spartiacque, come è stato scritto, per uno Stato cattolico tra 5 e 600 nei rapporti tra Stato e Chiesa. Non sappiamo se i principi, come auspicato nella vita del padre Paolo, avevano fatto tesoro delle ragioni squisitissime e rarissime contenute in quella pezza singolarissima, ma siamo certi che era stato vivamente apprezzato da subito dai dotti d'Europa. Non ultimo John Milton, assiduo lettore del trattato, e ne avevano sentito tutto il peso anche gli avversari, a partire da Roma, dove il libro, appena uscito a stampa, era stato dal cardinale Antonio Barberini definito libro molto pernicioso e ripieno d'opinioni poco pie e scandalose, se non in tutto eretiche. Senza tuttavia una conseguente messa all'indice per non divulgarne la fama. Meglio che di lui non si parli, per richiamare il titolo, di un recente saggio sulla strategia adottata dalla corte di Roma fin dalla morte di Sarpi, che mirava a cancellarne la memoria evitando di nominarlo. Messa in conto la ferma e dura reazione del mondo romano, si potrebbe passare oltre se non fosse per un intervento della seconda metà del Seicento che troverà favorevole accoglienza fino ai giorni nostri. Si tratta della risposta all'istoria della Sacra Inquisizione, composta dal reverendo padre Paolo Servito, uscita stampa anonima, ma come noto, del dotto cardinale Francesco Albizzi, già assessore della Congregazione del Santo Uffizio. Opera fornita di ampia documentazione, attinta dagli archivi vaticani, tutta indirizzata, come apertamente dichiarata dall'autore, a scoprire le falsità e le menzogne registrate dal padre Paolo Servito. Anche qui si sarebbe tentati di passare oltre di fronte a questo prelato erudito ma dalla cultura attardata, se non che, senza alcuna fobia ideologica o schieramento confessionale, la messa sotto accusa del Sarpi storico verrà ripresa da autorevoli storici odierni studiosi dell'Inquisizione cosiddetta veneziana. Senza chiamare l'appello ai molti studiosi che per vari motivi si sono negli ultimi decenni imbattuti nel Sarpi alle prese con l'Inquisizione veneziana e senza andare a rilevare momenti storici specifici richiamati nel trattato, in vero rari, a trovare un comune bersaglio per mettere sotto accusa il Sarpi storico e la tesi espressa nel trattato con la perentoria formula, e la si legge nell'invito presente dell'incontro, l'ufficio dell'eresia in questo dominio non è dependente dalla corte romana ma proprio dalla Serenissima Repubblica è indipendente, è retto e costituito dalla medesima e stabilito per contratto e concordato con la sede apostolica. Tesi che già l'Albizi, osserva Andrea del Col, aveva rovesciato mostrando, cito da Del Col, con vasta documentazione che il tribunale veneziano era strettamente dipendente da Roma e non aveva una particolare autonomia giurisdizionale. Ecco allora il noto storico americano Paul Grenler qualificare Sarpi per la parte moderna era inattendibile dal momento che l'inquisizione veneziana era di fatto, cito, un tribunale unicamente ecclesiastico e non diversamente Brian Paul Grenler. A sua volta Ruth Martin osserva relativamente al Sarpi del trattato che, cito, gran parte di quanto dice è veritiero solo a metà. E per non proseguire nell'elenco valga per tutti Nicolas Davidson che, dopo aver avanzato molti dubbi sul Sarpi storico, osserva che il fondo del Sant'Ufficio veneziano ne dimostra la quasi completa dipendenza dalla congregazione romana e dal Papa. Non spetta lo storico prenderle difese. A noi basti osservare che così la pensava Sarpi stesso, il quale nel settembre 1611 a un suo corrispondente francese, ammetteva che l'ufficio sinora è dependuto da Roma, sebbene la Repubblica ha l'assistenza. L'assistenza laica, cioè il diritto vantato dalla Serenissima di farsi rappresentare dai suoi delegati, i savi all'eresia in Venezia, i rettori o il loro vicario nel dominio, nei tribunali locali dell'inquisizione. Peculiarità dell'istituto dell'inquisizione veneziana, che Sarpi nel trattato affermava essere né un abuso né un privilegio ma una potestà propria e naturale del principe, quale con buona conscienza non si può né per connivenza né per falso opinione lasciar diminuire. Salvo poi riconoscere in non pochi consulti al Senato che quell'esercizio era sistematicamente disatteso dai rettori e in un'altra occasione più che un vanto della Repubblica rappresentava un relitto, la sola assistenza resta, scrive, dell'originaria autonomia dell'antica Repubblica. Dunque, un Sarpi che smentisce se stesso o almeno il suo trattato? È un trattato pertanto storicamente inaffidabile da mettere come suggerito da taloni storici in un canto? E visto che siamo in tema di sfortuna, tanto vale aggiungere, per un altro verso, l'affondo più pesante al Sarpi del trattato, che prendo, per andare per le spicce, dal noto critico letterario Giovanni Getto. In quel trattato, Sentenze a Getto, il critico che considera Sarpi soltanto un uomo di vasta e profonda cultura, privo di un'autentica ansia religiosa, in quel trattato, cito, non affiora neppure quello spirito di tolleranza, quel preannuncio della libertà di religione che si avverte già in Erasmo o in Occhino o in Baudet. Troncatura sbrigativa e discutibile naturalmente, eppure qui con un sottofondo quasi condivisibile. Ben più attenta al contesto in cui ha origine il trattato sarpiano, la bibliografia su Paolo Sarpi degli ultimi decenni non si sofferma certo su recriminazioni fuori bersaglio per la mancata apologia della tolleranza o la denuncia delle atrocità, così il biografo sarpiano ottocentesco Aurelio Bianchi Giovini, di quel tribunale ecclesiastico. Ma resta forte il sospetto che quella evidente disattenzione che perdura sull'opera anche da parte di studiosi sarpiane contemporanei, una qualche attinenza con quelle persino ingenue lamentazioni ci sia e susciti non poche perplessità. Una critica al trattato non a Sarpi, perché non c'è studioso che non riconosca in lui il più fermo avversario in Italia dell'Inquisizione, quel Sarpi che nella primavera del 1610 a un corrispondente francese confidava, se sarà guerra in Italia l'Inquisizione cesserà e l'Evangelio avrà corso. Un auspicio che si estendeva incondizionato anche alla censura ecclesiastica, tacciando nella storia del concilio tridentino l'indice dei libri proibiti. Il più bello arcano, scrive Sarpi, per adoperare la religione a fare gli uomini insensati. Un Sarpi fin commovente quando al giurista gallicano Jacques Chilot e ai suoi amici parigini esprime il rammarico di non poter, data l'età, recarsi a Parigi per godere della loro libertà. E' il Sarpi dello splendido epistolario dove ci imbattiamo non di rado nella parola libertas, la genti libertas, la loquendi libertas e persino la conscienze libertas. Ma poi nel trattato lo stesso Sarpi per quella libertà non spende una sola parola. Perché questa assenza di idealità? E che dire del Sarpi storico inaffidabile? Una prima risposta va cercata, come per tutte le consulenze di Sarpi, in un'attenta contestualizzazione sulla genesi e le finalità del trattato, sui precisi termini della commissione del governo veneziano al suo consultore e per quali motivi. Non è questa la sede per tracciare minutamente l'iter del trattato per altro materia alquanto tediosa. In estrema sintesi, da quanto si ricava dei documenti ufficiali e da quanto ci testimonia Sarpi nel trattato e in altri consulti, sappiamo che il Senato, nell'estate del 1613, visti molti abusi relativi all'inquisizione veneziana dovuti sia all'intraprendenza degli inquisitori locali, sia alle inadempienze dei rettori del dominio, aveva deciso, sollecitato da Sarpi, di porvi rimedio, affidando al suo consultore il compito di preparare una giornata normativa in materia, attingendo attraverso una capillare ricerca negli archivi pubblici alle numerose leggi emanate dalla Repubblica in proposito lungo i secoli. Conclusa la ricerca, Sarpi aveva steso un organico capitolare di 39 articoli, sintesi delle molte leggi raccolte e vagliate in materia di inquisizione. Capitolare affidato a una prima scrittura, alla quale faceva seguire una seconda di illustrazione e di commento dei singoli capitoli, il tutto formanti il trattato. Il Senato il 19 ottobre 1613, dopo averlo dato il lavoro di Sarpi, la fatica fatta dal teogol della nostra signoria, approvava con ampia votazione il capitolare che inviava ai rettori affinché in tutto il dominio si procedesse uniformemente. In quel capitolare si stabilivano minutamente i compiti dei rettori a controllo dell'operato degli inquisitori locali e più generalmente si fissava le norme a garanzia della peculiarità dell'inquisizione veneziana non dipendente dalla corte romana eccetera e a tutela dei concordati sulla stampia. Si dichiarava l'esclusiva competenza giurisdizionale laica sull'usura, i commerci con paesi non cattolici, la magia, la stregoneria, le divinazioni eccetera. Si proibiva l'estradizione degli inquisiti dal dominio e l'esecuzione di bolle pontifice senza ex equatur del governo eccetera. È evidente che quel capitolare non era lo specchio della situazione dell'inquisizione veneziana vigente in quel 1613 e nei decenni precedenti dove dilagavano abbiamo visto gli abusi, quanto piuttosto la sua prefigurazione. Una volta mandato in vigore, in pieno vigore, in tutto il dominio quel complesso di leggi frutto di una scelta mirata operata da Sarpi tra la congerie di deliberazioni governative non di rado ambigue e contraddittorie. Immagine di una mitica repubblica monolitica che aveva emanato lungo i secoli una legislazione inquisitoriale coerente coi principi originali dell'istituto misto e che mai aveva declinato dalla salvaguardia della sua sovranità. Non dunque una storia dell'inquisizione o un'opera controversistica o giuridica che non gli erano state chieste, ma essenzialmente una scrittura interna di riforma politico-religiosa. Va piuttosto osservato che la deliberazione dell'ottobre del 1613 era stata approvata con 116 voti a favore e solo 4 contrari. Un esito non scontato se ancora 4 anni prima, per una deliberazione del Senato su alcuni provvedimenti ora riproposti da Sarpi nel capitolare, la votazione era risultata di soli 93 voti a favore contro 157 votanti. A dimostrazione di un Senato restio a mettere mano a quella materia. Un risultato, quello del 1613, che Sarpi in successivi consulti rivendicherà con orgoglio al suo determinante contributo. Una vittoria, certo, per il cui conseguimento tuttavia il consultore aveva dovuto pagare un forte scotto. Nella scelta di quelle leggi, tutte a tutela della sovranità dello Stato, aveva necessariamente sorvolato sulle indubbie responsabilità del patriziato presente e passato per gli errori commessi e gli abusi consentiti, rinunciando pertanto a stracciare un sia più rapido escurso storico su quell'istituto in età moderna. Di qui il sistematico e sicuramente sofferto ricorso all'omissione che in quel lavoro sostanzialmente politico e non storico nulla ha a che fare con la falsificazione storica. E qui aprirei una gran parentesi perché Benzoni e Giordano Bruno e Campanella sarpi tacee, ma perché l'omissione non è falsificazione storica, ma semplicemente perché non gli era richiesta e aveva altre mire con cui portare avanti il trattato. E non solo aveva rinunciato a far valenare spiragli alla tolleranza religiosa, evitando di urtare la sensibilità religiosa di tanti senatori, sospettosi peraltro delle convinzioni religiose di Fra Paolo, ma si era ben guardato dal ventilare l'ipotesi, come farà molto più tardi, di una suppressione di quell'istituto, più volte auspicato invece nell'epistolario. L'inquisizione, sia pur nella forma veneziana di inquisizione mista, andava dunque accettata e concio stesso la presenza nello stato di un potere coattivo ecclesiastico, con il risultato di un deprecato stato a due teste, il Monstrum Biceps, denunciato dal sarpi preobbesiano della moderna sovranità degli stati. Limiti in dubbi. Ma sarpi, sia pur con evidente forzata cautela, sa rivalersi nella seconda scrittura, ufficialmente deputata a illustrare a capo per capo le ragioni e le cause di quei 39 capitoli. In realtà, assolto quel compito burocratico, il consultore si concedeva un'ampia libertà di commento, spesso trasbordante dallo stretto ambito inquisitoriale, per aprirsi a più generali considerazioni politico-religiose su singoli temi e articoli, fino a creare veri e propri trattatelli dentro al trattato. Dar conto di questa operazione anche solo per alcuni settori più vivaci è ora impossibile. Va almeno rilevato che la contestazione, per non dire demolizione, dell'inquisizione romana da parte di sarpi avviene non su un piano religioso, ma su quello del tutto politico. E di fatto non c'è consulto trattato sarpiano più politico del nostro, tanto da poterlo considerare un vero breviario di politica. Così mi diceva Cozzi ancora nel 1986. Mettendo l'accento, quindi, sulla sovranità dello Stato, di cui l'inquisizione, dice Sarpi, è strumento corrosivo, subdolo, in mano di una chiesa che, sotto colore di religione, intende farsi arbitra d'ogni governo. E questo è il motif del trattato. Quando Roma, insegna Sarpi, vuole introdurre novità, si vale volentieri di quell'ufficio, presupponendo che il vero fine non apparirà. Accusa pesante e coraggiosa, in un trattato scritto per una classe dirigente cattolica, sia pur veneziana, con quell'assimilazione dell'inquisizione, aggrima il dello usato dalla chiesa romana per conseguire i suoi interessi umani e poco onesti. Non stupisce allora imbatterci in formule come questa. Cito, gli ecclesiastici da molti centenari ad anni in qua non hanno altro scopo che assumersi giurisdizione temporale, di che ne hanno anche fatto grande acquisto con gran perturbazione dei governi. Al presente più che mai mirano a questo. E non diversamente conclude in altre pagine sugli ecclesiastici di volersi fare assoluti patroni dei libri, nonché patroni in Italia della mercanzia oltramontana e persino arbitri d'ogni governo. Peculiarità del trattato, più di ogni altra scrittura pubblica sarpiana, è il linguaggio piano, fatto di concretezza e di esperienza quotidiana, dove il ricorso all'aforisma diventa mezzo oltremodo efficace per impartire una lezione di alta politica, mettendo tuttavia il maestro su un piano colloquiale con l'uditorio e stabilendo una forma di simbiosi tra Sarpi e la classe dirigente. Solo qualche citazione, iniziando quasi d'obbligo, da quello celebre sul tema della stampa, che cito dalla nuova trascrizione con qualche variante. Scrive Sarpi «La materia dei libri, par cosa di poco momento, perché tratta di parole, ma da quelle parole vengono le opinioni nel mondo, che causano le parzialità, le sedizioni e infine le guerre. Sono parole sì, ma che in conseguenza tirano secco eserciti armati». Ed eccone altre che scelgo senza ordine. «La diligenza in cercare e scoprire il male è lodevole. Il voler rimediarlo non spettando a sé è usurpazione e ambizione». O ancora «Quello spartano disse che l'aver ristretta l'autorità regia non era stato diminuirla, ma farla più durabile». Ancora «La riverenza che meritamente si porta alla religione, causa che facilmente hanno ingresso gli abusi che entrano coperti di quel santo manto». Ancora «Roma, lontana e occupata dalle rispetti propri non può dar buon giudizio degli pericoli alieni». O ancora «Quando si tratta di Dio e della religione, è sempre cosa perniciosa il mescolarvi materia pecuniaria, perché di ciò il mondo prende scandalo, e vedendo intervenire il danaro non si può persuader, se ben fosse vero e chiaro, che il servizio di Dio tenga il primo luogo». E concludo «In quelle regioni dove il sant'uffizio altre volte era e al presente è espulso, non per altra causa ciò è avvenuto, se non per avervi assunto tanto, che era fatto intollerabile al popolo». Ognuno sopporta spontaneamente un legame ragionevole, ma uno eccessivo non è persona che non cerchi per ogni via e si ande in diretta di liberarsene». Non posso tralasciare, per concludere, l'aforisma che leggiamo nell'invito odierno, che recita «L'ufficio dell'inquisizione, quanto è più santo e necessario degli altri, se non è ben amministrato ma abusato, tanto è più grave e dannoso. Di qui le neppurtanto reticenze a munizioni alla classe politica dirigente». Salto qualche citazione «Se gli inquisitori si dilatano oltre il debito, essendo naturale, sono più da riprendere quelli che lo permettono, se ben alle volte a buon fine, non mai però con prudenza». O ancora «Alcuni credono far maggior servizio a Dio, quanto più lasciano dilatare quell'autorità del Sant'Ufficio, e credono che sia un favorire la fede. Altri, con buon zelo, hanno permesso all'inquisizione che si assumesse la bestemmia, gli sortileggi e alcune anche le usure, sperando che dalla reputazione e severità di quell'ufficio più facilmente fossero estirpati. Ma l'evento ha mostrato, e sempre mostrerà, il contrario». Mi piace concludere con il titolo di un bellissimo libro di Gaetano Cozzi del 1979 e da tempo fuori commercio. Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa. All'Europa, non a Venezia, Sarpi aveva donato il suo capolavoro, l'istoria del concilio tridentino. Il prossimo anno sarà il quarto centenario dell'uscita stampa a Londra nel maggio 1619. Anche Micanzi aveva ritenuto che quel tesoro del trattato, quella gemma preziosissima, uscisse dalla secreta della Serenissima per farne un dono all'Europa. Poco importa se, non avendo trovato, potuto trarre coppia dall'originale, si era contentato di inviare all'estero una trascrizione della minuta. E poco conta che, fuori dal suo contesto, il trattato vivesse liberamente la sua fortuna o anche la sua sfortuna. grazie. Grazie, grazie per la relazione, grazie per il lavoro che hai fatto e che poi presto vedremo anche in stampa, nella sua completezza. Adesso a te Gino, Cozzi Sarpiano. lo signore qui alla mia sinistra, in onora della sua amicizia, lungo i decenni, dice che ha un pizzico di ammirazione e anche di invidia per la mia, diciamo, abilità nel presentare a parlare di libri. Diremo che me l'ha detto due o tre volte lungo i decenni e evidentemente ne è convinto, tant'è che mi ha segnato un argomento in cui non occorre aver letto i libri. l'argomento però ricade sulla mia memoria, che data la mia età è un po' fallosa. Detto questo, parlo un po' sul filo della memoria in cui, come dire, Cozzi è protagonista, con lui il lucino rosso e con lui Sarpi, che è stato il compagno della vita di Cozzi. In grosso modo lo incontrava tutte le mattine e grosso modo l'aveva in mente quando si addormentava. E nello stesso tempo, io che non sono veneziano in assita, sono venuto a stare a Venezia nel 1955, una Venezia che aveva il triplo degli abitanti da adesso, un arsenale che aveva una una mano d'opera di 700 persone circa, ancora in funzione con la Jungans. E in questa Venezia, per me è capitato da Belluno, e un minimo Sarpi l'ho incontrato, l'ho incontrato nel senso che era andato a stare vicino al monumento di Sarpi, la cui erezione nel tardo ottocento ha suscitato un conflitto tra clericali e laici, forse ancora più aspro dell'erezione suscitata a Brescia dal monumento d'Arnaldo da Brescia. Gli anni poi, ormai sta una volta residente a Venezia, ci ho anche un po' lavorato e ho insegnato per qualche anno agli aspiranti ragionieri dell'istituto fra Paolo Sarpi. Come a Brescia mi è capitato di notare che il traffico gira attorno al monumento indifferente al messaggio del monumento, e così una volta docente di materie letterarie, come si usava, forse si usa ancora a dire agli aspiranti ragionieri, era una scuola in cui le sezioni adesso credo arrivino alla B, arrivano alla H, alla L, quindi nutrita. E credo che gli studenti poco sapessero della figura di Sarpi, c'era sto nome e come tale non c'era neanche un corpo docente interessato a dire guardate, siete in una scuola che si intitola a Fra Paolo Sarpi, né loro erano interessati a sapere del perché così si chiamava la scuola. Col tempo ho appreso dell'esistenza, ho conosciuto Cozzi, ma prima di arrivare a Cozzi, che resta diremmo una costante nella mia esistenza e anche nel mio odierno rapido discorso, ma poi lo dimmi tu quando... e voglio arrivare a questo che siede alla mia destra, come vedete mi attribuisco funzioni da padre, alla destra del padre, alla sinistra del padre. Questo signore, la prima volta che l'ho sentito nominare, è stato in sala riservata alla Marciana, ma quando la sala riservata non era come adesso per leggerci i manoscritti, c'era una utenza selezionata e come ci sono i pensionati che andavano, che ho visto andare in stazione a Lecce, per esempio, a passare il tempo affinché non li cacciavano, così c'erano degli abituati delle sale riservate della Marciana e uno di questi era Marino Berengo e ognuno praticamente, anche se di per sé non c'erano i nomi con il cartellino sulle sedie, ognuno aveva i suoi posti e guardava male se per caso qualcuno arrivava ignaro e si sedeva nel posto di, in grosso modo, per autoattribuzione. Sedeva accanto a me uno studioso di Sarpi, sia grosso di statura e alto, sia autorevole. Si chiamava Giovanni D'Apozzo e D'Apozzo una mattina lo avevo un po' buio, parlavamo in dialetto con D'Apozzo e gli diceva, te conosci un certo PIN? No, non ho mai sentito nominato. E lui mi fa, perché, tu hai capito, perché ho l'articolo, perché grosso modo D'Apozzo, che era un filologo, aveva avuto come, se lo ricordo bene, una bacchettata piuttosto energica da Luigi Firpo, Luigi Firpo, che oltre al resto era anche un filologo, il quale Luigi Firpo non è che citasse, che so, qualche dante della filologia, non so, Pasquale, chi c'è? No, ha detto, il bacchettava D'Apozzo facendo il nome di PIN, è così. E questo poteva essere inizi anni 70. E così sepi dell'esistenza di PIN, che poi conobbi, e col quale sentii sensi di colleganza, quei sensi di colleganza che non ho mai avuto con l'università, perché, grosso modo, io, tutto sommato, psicologicamente avevo la mia esperienza di insegnante sia agli aspiranti ragionieri che, prima ancora, agli aspiranti geometri. Dopo, gli studiosi umanamente non mi hanno granché interessato e, se mi interessavano, dovevo parlare fuori dalle aule universitarie, o di sera o a cena, ma non più che tanto. Con PIN ho avuto, non so se ricambiato, fra l'altro non è che ne faccia un problema, ho avuto un'immediata simpatia. E tant'è, e nello stesso tempo, perché c'entra Cozzi, perché senza Cozzi non ci sarebbe PIN. Oddio, magari ci sarebbe, ma avrebbe aperto un ristorante, non so. Nel senso che, diremo, è con Cozzi che Sarpi, se uno prende il cosiddetto Marzorati, che per gli studenti delle facoltà letterarie della mia generazione faceva un po' da introduzione, da testo, nel Marzorati Sarpi era messo tra i minori. Ecco, i minori della letteratura italiana, non so, i maggiori Dante, Boccaccio, Petrarca, Machiavelli, Sarpi i minori. Possiamo dire, ci sono anche negli studi, come esiste il post elante. Post Cozzium historicum, e come dire, Sarpi è diventato, e non solo, è cresciuto di statura. È cresciuto di statura al punto che, dopo Cozzi, e qui arriva PIN, se c'è una parola d'ordine, vale quella che davano per l'edizione nazionale di Foscolo, e non mi ricordo più chi fosse, all'inizio degli anni, uno che è morto all'inizio degli anni 30, un filologo, che diceva, che aveva impostato l'edizione nazionale di Foscolo, dicendo, del Foscolo dare tutto, vale a dire, stampare ogni cosa di Foscolo. Foscolo è uno dei maggiori della letteratura italiana. Dopo Cozzi, vien da dire che di Sarpi dare tutto. Se uno prende i, quanti sono? Due finora, i due volumi di consulti Sarpiani, editi, a cura di PIN, ed è una fatica che ha fatto da solo, ogni mercoledì, prendendo il treno da Bassano a Venezia, è così, è cambiato l'orario adesso, adesso è pensionato, e ebbene, PIN ha prodotto, in questo caso, il tali avrebbe ragione, se dovessi presentare i consulti, parlo di libri che ho letto, perché chi è che legge tutti i consulti? PIN? E chi legge le note che ha fatto PIN ai consulti? PIN? Ma pochi altri, credo neanche nei momenti di impennata, di scrupolo, da parte del professor Ottalli, arriverebbe a leggere l'edizione, sì, perché sono pochi testi, meno, è una cosa immane, tant'è che ho detto, qui a sto punto, se, come si intitolava il Goffredo, il poema relativo al conquistatore di Gerusalemme, bisognerebbe scrivere la PINEIDE, a inneggiare, per adeguatamente inneggiare la fatica di PIN, la quale fatica, però, ripeto, e mi dici tu quanto tempo mi dai adesso? Poi poco? No, allora parlo di Cozzi. Allora, e PIN, non dico, e, e allora, per tornare, arrivo a Venezia nel 1955, diciamo, 1955, 56, 57, 58, cosa fa un giovanotto che, grosso modo, cerca di sfuggire a un'educazione clericale avuta in famiglia che tentavano di impormi ancora? A Venezia c'era una dimensione politica molto forte e poi c'era a Fenice e c'era il circolo del cinema Francesco Pasinetti. E poi c'erano, come dire, i personaggi della sinistra. Uno di questi poteva essere Gigi Nono, i musici. chi ti vedo alle zattere nono sapevo chi era. Un signore sui 35, perché Cozzi è nato nel 1922, per darvi un'idea, l'anno in cui è nato Pasolini, tanto per dire, e, quindi, se siamo nel 55, 56, uno che è sui 34, 35 anni, quello che per Dante è il mezzo dei cammini di nostra vita, alle zattere con Nono accanto c'era uno splendido volto, una barba nera. Chi non non ha visto Cozzi giovane è come aver perso St. Connery quando con la carrozzina che lo contrassegnava un cagnolino spesso, perché aveva un cagnolino che si chiamava Ergo e c'era Cozzi, Cozzi Nono, Nono era un personaggio anche oltre che nuova musica del PC e allora politicamente Cozzi perché quelli che erano a sinistra dicevano ma quello cos'è? Diciamo allora se uno doveva collocare era terza forza diciamo radicale 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 però stando attenti perché mi ricordo che andai a una riunione dei radicali presieduta da Leo Valiani il quale era furibondo perché aveva messo fuori un manifesto chi sa leggere il giorno il mondo era espresso vota radicale allora Leo Valiani era infurioso perché ha detto cosa c'entra al giorno e un avvocato radicale cerca di giustificare questo manifesto ma dice gliela ha detto il giornalaio che il giorno è di Cozzi era un lettore del mondo soprattutto ed era anche un come dire per me che giornali egeo ma legeva Le Mond e nelle Mond quando l'ho conosciuto mi faceva notare una raffinatissima rubrica gastronomica ancora non si sapeva che c'era la nouvelle che ci sarebbe stata la nouvelle cuisine ma Cozzi lo sapeva anche se mangiava pochino se ne intendeva di vino ma cosa c'entra Sarpi è diciamo terza forza come collocazione politica Sarpi come argomento della tesi di laurea ma il tutto va collegato in un periodo in cui la sinistra sinistra non aveva una gran sensibilità per i temi della laicità dell'autonomia dello Stato c'era il caso del vescovo di Prato un vescovo che manda in malora una coppia perché non si è sposata in chiesa perché poi questi reprobi condannati dal pulpito lui era un commerciante non ha avuto più crediti bancari cioè li ha mandati in malora ebbene in quella situazione 1958 in quella situazione Cozzi studia una Venezia in cui come dire c'è Sarpi e studia un Sarpi in cui c'è Venezia c'è l'intreccio e questo intreccio era legato a quelle che erano la sua sensibilità politica per il momento a quella che era la sua capacità di cogliere la psicologia dei personaggi è un Cozzi in cui come dire quello che è quello che è Venezia come regime aristocratico come con presenza di organi come con un palazzo ducale con centralità senatoria è un Cozzi che scruta le fisionomie dei senatori e in questo scrutare le fisionomie coglie la spaccatura della classe dirigente proprio a proposito dell'atteggiamento che questa classe dirigente deve tenere nei confronti di Roma e c'è come anche una rivalsa di una Venezia che si riduce come peso relativo che però sul terreno della sovranità resiste e Sarpi diventa mentore infatti di sovranità diventa quello che orchestra e quelle che sono le intuizioni le motivazioni di una classe dirigente e nel contempo altro salto di qualità di questo Cozzi che vede Sarpi che si aggira per Venezia ma vede anche una classe dirigente che nella parte sua più combattiva e sensibile gravita su Sarpi in cui Cozzi quale altra novità di Cozzi perché Sarpi non è stato un minore e nello stesso tempo nella storia d'Italia ha contato parecchio nella misura in cui il risorgimento l'ha tenuto presente qui a Venezia c'era un periodico di cattolici liberali che si intitolava Fra Paolo Sarpi è chiaro però che dietro questo diremo utilizzo risorgimentale della figura di Sarpi pensiamo anche alla posizione di Manzoni senatore del Regno d'Italia nel mondo cattolico c'è anche come dire vige quanto valeva per la Repubblica Sarpi ha avuto solenni generali di Stato perché la sua fine non cattolica ha avuto una versione ufficiale cattolica Venezia è Repubblica cattolica può avere il proprio consultore il cui l'assido diventa patrimonio Repubblica nella misura in cui è cattolico tant'è che si chiama era consultore e teologo cosa voleva dire doveva garantire la compatibilità della prassi legislativa e attuativa statale con diremo con la dottrina più che cattolica con un cristianesimo pre-tridentrino quindi Sarpi al contrario di Machiavelli affonda la propria la sua tastiera medievale e proprio vale per lui vale per lui la divisione delle due potestas che poi che poi lui grossomodo nel tracciare i limiti in sostanza è chiaramente addirittura stato latrico anche se è un uomo che diceva che l'uomo vivrebbe se sapesse farlo meglio in anarchia e il cibo è la filosofia e lo stato che la chiesa istituzionalizzata sono medicine è il caso di Cozzi non ha avuto alcun timore per dare per scontata a un certo punto l'intima rottura di Sarpi con la chiesa cattolica anche se il Sarpi ereditato dalla temperia risorgimentale è dato per cattolico e solo cattolico fautore della indipendenza statale Mazzini che non si è mai messo a studiare Sarpi però non è un caso che dica non fu protestante mai ecco lo stesso lo dirà Cessi cioè in fin dei conti lo stesso dice anche Chabot che grosso modo lo stesso dice anche vale a dire alleanza politica con i protestanti nessun slittamento l'intelligenza di Cossi in cosa consiste andiamo a vedere cosa è morto se è voluto la comunione l'estrema anzione e via discorrendo ma perché la vita di Micanzio insiste invece su una morte diremo cattolicamente agghindata perché così Sarpi ha i funerali di Stato e diventa patrimonio dello Stato allora quel signore con la barba nera e con gli occhi neri è stato Cosi ha segnato la mia giovinezza e nello stesso tempo questa mia giovinezza è grosso modo ha sempre bordeggiato Sarpi perché è un autore difficile o è più semplice cosa che ho fatto magari biografare qualcuno che ha conosciuto Sarpi che è una roba diversa entrare in Sarpi è un se Sarpi in sostanza adesso è deflagra nei testi curati da PIN ricordiamo Piemonte da Gaetano Cozzi grazie 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 per questa presentazione che non richiedeva letture Adriano però speri a te io ringrazio per essere stato associato a questa a questo incontro pensavo a questa commossa rievocazione di Sarpi e di Gaetano Cozzi io associerei al nome di Gaetano Cozzi quello di Luisa alla cui opera abbiamo dovuto la loro collaborazione intellettuale fortissima abbiamo dovuto anche questo miracoloso lavoro di restauro di frammenti di questa dimensione di Sarpi come scienziato filosofo questa dimensione Sarpi è stato sfortunatissimo bisogna dire che la sua eredità manoscritta andasse a fuoco nel settecento è stato uno dei disastri che si sono sommati per renderci difficile accostarci a lui ecco venire a Venezia studiare il cinquecento religioso studiare il concilio di Trento voleva dire incontrare Gaetano Cozzi e con lui sua moglie Luisa e entrare in questo mondo di pensieri di estrema finezza intelligenza e sensibilità qualità che caratterizzarono l'opera di Gaetano Cozzi in misura somma c'era un credo appunto che sia stato evocato veramente molto bene adesso nel tuo intervento questo questo tono umano speciale vero della barba io l'ho riconosciuto senza barba ma è perché se la si 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 diradatta più che non è che si aveva le caratteristiche proprio di una saggezza stoica severa ecco ma staccandoci dalle persone che passano e guardando alla loro opera sono particolarmente contento di essere stato coinvolto in questo incontro che celebra l'aggiungersi di un pezzo prezioso ai testi di Sarpi che rientrano in Italia e pensavo proprio diciamo non solo quanto dobbiamo ancora ma anche il fatto che il portato della mia generazione o del novecento storiografico si deve misurare forse nella misura in cui è riuscito a riportare alla lettura di Sarpi dopo secoli di letture difficili dopo una continua guerriglia che è stata sorda proprio perché non si voleva fare pubblicità a Sarpi la saggezza diabolica delle autorità ecclesiastiche è stata questa cioè non alzare il tono per evitare di fare indirettamente conoscere Sarpi ma questa saggezza ha creato un contesto in cui ancora come Corrado Pinci ha mostrato nel suo intervento si possono inanellare nomi di studiosi di letteratura italiana e di storia italiana che hanno diciamo alzato riserve su Sarpi hanno come dire sforacchiato la sua importanza sollevando obiezioni dubbi dicarando lo scrittore di parte ma senza mai affrontarlo e nello stesso tempo diciamo la sua opera rimaneva lontana da noi rimaneva non leggibile allora mi chiedevo che bilancio si farà il giorno in cui vedremo diciamo faremo il conto di quanto il novecento il secondo novecento italiano abbia contribuito a riportare Sarpi in Italia perché la storia di Sarpi è la storia di una proprietà intellettuale di un grande insegnamento di una grande somma di contributi importanti che hanno viaggiato fuori d'Italia fin dall'inizio e io poi mi sopermerò un attimo su di un frammento di questa di questa circolazione europea del pensiero di Sarpi che intanto lasciava l'Italia facendo in occasione del centenario della riapertura scusate non di un centenario ma della riapertura dell'apertura agli studiosi dell'archivio della congregazione romana del santo ufficio facendo una storia della conoscenza dell'inquisizione romana nella storiografia mi era stato dato questo compito mi sono trovato davanti a questo fenomeno singolare di una storiografia europea che nasce da Sarpi da una tradizione di Sarpi letto non sempre letto correttamente ma che costituisce l'ossatura sostanziale della storiografia europea sull'inquisizione romana in totale assenza di voci italiane sull'argomento quindi abbiamo vissuto diciamo di questa circolazione europea e abbiamo scoperto Sarpi grazie alla circolazione da editori e in paesi che non sono l'Italia in questo Sarpi ha condiviso la sorte di quel gruppo di uomini di lettere di cultura e di religione che Deglio Cantimori indicò come eretici italiani e di cui seguì la vicenda dell'esilio eretici italiani che lasciano l'Italia e portano il loro pensiero altrove e elaborano in questa loro diciamo circolazione europea e mondiale elaborano la tradizione intellettuale dell'umanesimo italiano cioè portano all'estero una cultura che in Italia aveva le sue radici Sarpi non va in esilio e in questo è come dire un aspetto di quella saggezza e accortezza veneziana che riesce a tenerlo cioè a Venezia non ci sono fratture clamorose fratture radicali ma non c'è dubbio che Sarpi è un grande personaggio fino a un certo momento guida le sorti della battaglia dell'interdetto di questa battaglia di scritture però poi a un certo punto Venezia si accorda con Roma e Sarpi torna alla vita privata quindi averlo tenuto a Venezia è stato un merito ma nello stesso tempo è stato necessario per tenerlo a Venezia nasconderne la portata diciamo teorica di pensiero e di scelta religiosa che era una portata di rottura radicale profonda vero con la chiesa romana tridentina quella che lui definisce con un termine che poi partorirà diciamo un concetto che ha dominato il secolo XX l'ha chiamata il totato papale totatus e da questa invenzione linguistica di Sarpi è nato il concetto di totalitarismo quel totalitarismo come intolleranza a qualunque diciamo opinione alternativa su cui Pio X in un colloquio in un famoso colloquio personale con Benito Mussolini nel 1532 disse che in fondo lui riconosceva qualche cosa di simile al fascismo perché ciascuno nel proprio ordine appunto era totalitario totalitario la chiesa cattolica non poteva non essere totalitaria e quindi su questo piano un personaggio come Pio X ovvero che ha lasciato una traccia importante nella storia dell'Italia e del mondo ma si riconosceva in qualche modo si rispecchiava nella pretesa totalitaria del fascismo riportare quindi Sarpi in Italia vuol dire avere un'edizione dei suoi scritti e di fronte diciamo alle tante edizioni nazionali alle non poche edizioni nazionali di scrittori e di intellettuali italiani fa macchia grave l'assenza fino ad oggi di una edizione nazionale completa e criticamente elaborata per incarico per volontà delle autorità statali dell'opera di Fra Paolo Sarpi ci serviamo ancora di edizioni mendose di edizioni sommarie non certo quelle di Corrado Pinn però è stato grazie a un studioso della statura di Corrado Vivanti che le edizioni in Audis sono diciamo come dire fatte portatrici della storia del concilio tridentino che altrimenti avrebbe continuato ad essere letta una vecchissima edizione di scrittori d'Italia e avrebbe continuato a viaggiare sotto il segno negativo della contestazione del cardinale dello scrittore poi il cardinale sforza parla vicino ecco quindi il bilancio di quel secolo che abbiamo le spalle non è un bilancio negativo però non siamo ancora arrivati a quello che dovrebbe essere l'obiettivo diciamo di un paese che riscopre i suoi cittadini migliori i suoi intellettuali di più grande valore cioè avere a disposizione una edizione nazionale critica aggiornata e disponibile di tutte le opere per esempio l'epistolario il grande epistolario salpiano una fonte fondamentale ricchissima straordinaria e ancora noi lo diciamo recuperiamo con lo sforzo degli studiosi che mettono insieme dei pezzi un'iniziativa francese di alcuni anni fa a cui mi ero associato non ha prodotto niente era soltanto uno specchietto per ottenere dei finanziamenti ma era venuta dalla Francia non era venuta dall'Italia cioè l'idea così semplice di voler ricomporre finalmente in un corpus l'epistolario di Fra Paolo Sarpi dove si rispecchia un personaggio di dimensione europea capace di dialogare con tutto il mondo intellettuale religioso del tempo e di farlo con lettere bellissime bellissime perché era un grande scrittore e in qualche modo indirettamente su di lui è arrivata perfino la luce del suo amico che non seguì purtroppo i suoi consigli Galileo Galilei negli studi che di volta in volta sui centenari sono stati fatti intorno a Galileo Galilei è emersa sullo sfondo la grande intelligenza pura l'intelligenza pura di Fra Paolo Sarpi studioso di ottica diciamo Galileo Galilei furbissimo toscano che cerca di fare carriera vende le lenti eccetera ma di ottica discuteva con Fra Paolo Sarpi e quando Sarpi viene messo da parte vero dalla Repubblica e si dedica ad altri pensieri i suoi appunti le sue osservazioni ruotano intorno a diciamo a problemi scientifici che lo mostrano come un personaggio di prima di prima qualità nello scenario europeo quindi questo diciamo è un apostrofe ma nel suo tempo è anche una dichiarazione di inadempienza perché appunto vogliamo ancora appunto rifarci a edizioni parziali e in questo naturalmente un momento fondamentale c'è la raccolta nel volume il massiccio volume curato da Gaetano e Luisa Cozzi degli scritti di Sarpi dove c'è questo frammento su cui avevo intenzione di richiamare la vostra attenzione perché è un frammento bellissimo cioè questo testo commentato chiosato glossato da Sarpi della relazione sullo stato della religione e per non farla troppo lunga perché la vostra pazienza è stata diciamo grande fino ad ora io non vorrei annoiarvi con riflessioni di troppo diciamo troppo generiche ma vorrei riflettere sulla questione che è al centro di questa relazione in che modo si incastona questo testo che Gaetano Luisa Cozzi misero in questa robusta vera antologia proprio un testo da digerirsi tutto intero diciamo questo testo cioè questo frammento di un libro che ancora una volta non uscì fu scritto per gli italiani ma non uscì in Italia uscì a Ginevra in italiano nel 1625 e da lì cominciò una carriera europea lasciandoci lasciandoci diciamo completamente fuori noi italiani italiani di allora e dei secoli successivi ed era un testo importante perché era stato scritto diciamo a due mani da Sarpi e da questo viaggiatore inglese Edwin Sandys sul tema appunto di quale fosse lo stato della religione il titolo stesso era un titolo interessante suggestivo perché introduceva questo diciamo alla condizione della religione ma anche al rapporto fra diciamo realtà politica e dimensione religiosa lo stato e la religione era il tema fondamentale di un'epoca che nasceva dalla riforma protestante dall'avvio delle chiese nazionali diciamo che si avviava per i secoli successivi a vedere stabilizzarsi il nesso fra stato e religione con un lesso necessario un nesso che si è venuto a spezzare sostanzialmente forse soltanto dall'inizio del novecento con lo scioglimento del vincolo fra religione e stato che ha avuto il suo avvio nella Francia del primo novecento con le leggi sulla famosa legge appunto in materia ma anche diciamo un nesso che noi vediamo spezzarsi di continuo nei nostri tempi e che ci ricorda però come la formazione delle grandi monarchie e degli stati nazionali dell'Europa moderna è avvenuta al prezzo della frattura dell'unità della cristianità medievale quella la cristianitas oder Europa vero oder Europa un processo lungo complicato che si avvia fin dallo scisma del quindicesimo secolo quando nei concili di riforma furono le naziones a presentare i loro elenchi degli abusi da riformare elenchi che tornarono poi alla ribalta nel panflet di Lutero alla nobiltà cristiana di nazione tedesca ma intanto era avvenuto il processo di statalizzazione del papato e l'avvio di quel sistema dei concordati con i quali il papato lasciò mano libera agli stati ai sovrani nella selezione degli episcopati in cambio di quella che chiamò la libertas ecclesia che non era un concetto diciamo come dire teorico evacuo ma era qualcosa di molto solido come si imparò a Venezia al tempo dell'interdetto quando lo Stato pretese di giudicare secondo la legge dello Stato dei preti violentatori e da lì si scatenò la guerra dell'interdetto che per un pelo non divenne una guerra guerreggiata ma mise in movimento tutte le potenze europee quindi la libertà della Chiesa che ostacolava quella libertà del cristiano che era stata affermata da Lutero ora su questo punto diciamo io vorrei semplicemente mettere in colonna uno dopo l'altra un po' di schede insomma sulla questione del rapporto fra Stato e religione per arrivare poi a fuoco a mettere a fuoco questo testo di Sarpi e di Sendis sullo Stato della religione intorno al tema Stato della religione de Stato religionis nasce quella che è la prima grande storia europea del mondo moderno quello di Johann Sleidan Sleidanus con la quale diciamo intorno agli anni della pacificazione religiosa di Augusta si fa per la prima volta una storia europea della religione una storia moderna è un'opera diciamo che è rimasta nascosta alla cultura italiana che ha avuto il suo storico dell'Europa in Francesco Guicciardini con la storia d'Italia appunto che nasceva più o meno che circolava già in quegli anni insomma ma la vera storia europea è quella di Sleidano di Sleidan un grande personaggio che vede la storia moderna nascere nel 1521 con Worms con il rifiuto di Lutero di obbedire all'imperatore in materia di fede di obbedire al Papa e diciamo quest'opera forniva appunto una specie di disegno dell'Europa sub specie religionis lo stato della religione a partire dal momento in cui la religione veniva risanata veniva scoperto il carattere speciale della vita religiosa e allo stato veniva affidato il compito di proteggere la libertà del cristiano ora l'opera di Sleidano è una ricognizione che sarebbe bello se venisse anche letta in una traduzione italiana finalmente perché è veramente una grande opera di storia ma da questa io passerei immediatamente a ricordare come sotto l'etichetta stato della religione si incontrino sostanzialmente due tipi di opere nel resto del secolo la prima che dobbiamo ricordare fu quella diciamo quella di Giovanni Botero diciamo la sua ricognizione dello stato della religione cattolica nel mondo un'opera monumentale che voleva semplicemente diciamo considerare l'espansione della vera religione cioè del cattolicesimo l'espansione nelle varie parti del mondo un compito che gli era stato affidato dal cardinal Borromeo e che portò avanti con lunga fatica negli anni che vanno dalla fine del Cinquecento alla primo decennio del Seicento su questa base diciamo la ricognizione di di Botero fornì la grande diciamo la grande rappresentazione geografica e storica del mondo scoperto dello stato del mondo ormai conosciuto oriente come occidente considerato sotto il punto di vista delle religioni che vi si praticavano e lo scopo era quello di mostrare la cattolicità della religione romana come sapete diciamo questo aggettivo che doveva definire uno dei caratteri della vera chiesa si riempie di contenuto proprio in questo secolo perché all'obiezione della riforma che cioè la vera religione cristiana era quella rifondata a partire da Lutero si rispondeva a Roma facendo osservare che sul piano della quantità di adesioni all'obbedienza alla chiesa romana il cattolicesimo la religione del papa vinceva di gran lunga era quella la vera cattolicità e Botero fornì per questo l'opera di riferimento l'opera fondamentale lo fece col criterio con cui l'astrografia italiana del tempo lavorava sulle fonti cioè ricuscendo relazioni di altri e raccontandole con lo stile familiare ormai negli anni di Botero all'astrografia gesuitica con lo stile dello storico che stando seduto al suo tavolino e leggendo testi di altri li racconta come se vedesse i paesaggi come se incontrasse le persone come se diciamo la visu potesse attestare quello che racconta questo la proposta la proposta di Botero cioè una quantificazione della diffusione della vera religione e nello stesso tempo anche l'individuazione delle religioni non obbedienti a Roma soppesate e valutate quantitativamente quando addirittura non si tratta di fare i conti con quelle che venivano definite forme di paganesimo cioè le religioni tradizionali le religioni etniche diremmo oggi ecco quindi la grande opera di Botero è un'opera come dire consolatoria grandiosa nel suo disegno e consolatoria perché mostra come nonostante la frattura nonostante le guerre di religione in Europa la verità cristiana secondo Roma si stesse conquistando largamente il mondo tutt'altro genere di opera viene fatta da Edwin Sandys negli anni in cui si aggira in Europa e prima ancora in Italia in Italia dove viene come precettore secondo una pratica normale come precettore di Giorgio Krenmer che viaggia in Francia in Italia in Germania un viaggio che dura tre anni un di quei viaggi di istruzione che passavano per forza dall'Italia il rapporto fra Edwin Sandys e Sarpi è stato ricostruito in saggi fondamentali di Gaetano Cozzi quindi è un altro riconoscimento è un altro tributo diciamo parlando di questo parliamo di studi suoi di aver individuato questo momento come un momento particolarmente importante e Sandys poi l'opera di Sandys ha una vicenda particolarmente sfortunata ma intanto bisogna dire che il suo la sua opera che si intitolò nella prima edizione completa in Inghilterra Speculum Religionis questo specchio della religione non faceva non seguiva il modello di Botero cioè faceva una ricognizione del mondo seguiva piuttosto il modello di Sleidano cioè una ricognizione dell'Europa l'idea cioè che il cristianesimo essendo la religione dell'Europa andava ispezionato per le forme che aveva assunto ed è il suo un resoconto realistico diremo quasi di tipo giornalistico sullo stato delle forme diverse che il cristianesimo ha assunto in Europa naturalmente c'è la Francia c'è l'Italia e ci sono gli altri paesi perché Sandis fa questa ricerca la sua indagine tende a individuare i punti sui quali è possibile un consenso delle diverse forme assunte dal cristianesimo dopo decenni anche di guerre religiose e lo scopo suo è anche quello di proporre il modello della chiesa alta anglicana come il modello vero dell'interpretazione del cristianesimo quello che poteva costituire il punto di incontro tra cattolicesimo romano e forme nate dalla protesta diciamo dalla riforma di Lutero di Calvino eccetera era quello il modello diciamo un'idea come dire imperialistica della forma inglese ma soprattutto un'idea irenica c'è la possibilità di diciamo cancellare le fratture e ricomporre l'unità che andava nella direzione di quelle tendenze ireniche alle quali in qualche modo partecipò anche Sarpi cioè ci sono queste visioni dall'alto della realtà europea fratturata vero sanguinosamente fratturata dalle diverse scelte religiose e c'è la speranza di ricomporre quel mondo unito in un cristianesimo che non fosse diciamo intollerante come quello cattolico non fosse diciamo radicale come quello delle sette protestanti e che si potesse quindi governare secondo il bene della della popolazione Sarpi lo segue in questo e lavora insieme a lui non solo lavora insieme a lui ma progetta un libro un libro in cui i primi capitoli della grande della grande sintesi che Sandy si stava elaborando venissero pubblicati in italiano insieme ai suoi commenti Sarpi commenta diciamo diversi punti e nella grazie appunto a Gaetano Isacozzi questi testi li abbiamo letti finalmente in un'edizione moderna in quella in quell'antologia i suoi commenti sono commenti di carattere storico storico giuridico storico teologico a fronte di un testo che è invece cronachistico giornalistico ricordo soltanto diciamo alcuni di questi temi che si che vengono affrontati c'è il tema c'è il problema fondamentale di cosa sia la religione italiana Sandy è colpito da una contraddizione che trova tra gli italiani cioè un popolo pacifico accogliente devoto che suonano le campane si inginocchia e riesce dalla preghiera saluto a Maria che frequenta le chiese ebbene questo popolo così religioso è condannato ad una specie di astinenza totale da ciò che potrebbe nutrirlo ascolta delle messe in latino non capisce niente però le ascolta devotamente obbediente le ascolta anche se non capisce le parole che vengono dette Sandy se nota dei passaggi che lo hanno sconcertato cioè quando il sacerdote dice sur sun corda allora i presenti si fanno un segno così al collo perché la parola corda ricorda loro l'impiccagione quindi fanno un gesto apotropaico per non essere impiccati insomma un incidente che poteva capitare e poi dice ma questo popolo così religioso in realtà sta diventando un popolo politeista perché sì non si ricorda più che la regione cristiana è fondata da Cristo ma ha un sacco di dei di divinità soltanto a Siena non so quante madonne ci sono tutte chiese dedicate alla madonna e se poi si parla di santi siamo davanti ad un politeismo quindi c'è un popolo diseducato costretto all'ignoranza obbligato ad assistere a riti in una lingua che non capisce a cui è vietato leggere la scrittura sacra quindi lui si vede con preoccupazione questo governo del popolo italiano come un governo che lo porta a diventare avrebbe detto Machiavelli senza religione cattivo perché poi c'è per esempio la confessione è vero che in Italia si confessano tutti però cos'è questa confessione la confessione è una specie di burla che viene fatta a Dio perché ci si confessa di tutto anche dei delitti e la confessione è fatta con grande larghezza di manica per cui uno può avere violentato ucciso si confessa gli viene dato viene assolto immediatamente come penitenza gli viene chiesto di recitare qualche preghiera e lo si rimanda tranquillo nel mondo sapendo che tu tornerà naturalmente a fare quello che ha fatto fino ad allora cioè a fare altri delitti visto che costa così poco essere perdonati quindi questa scissione questa scissione fra la coscienza e la pratica religiosa è anche questa specie di via rapida alla criminalità dal momento che la confessione cancella anche i crimini in questo Sandis inorridisce ed è esterefatto e Sarpi diciamo a tutti questi primi capitoli dell'opera di Sandis aggiunge una specie di approfondimento storico giuridico e racconta come quando e perché è cominciata la deformazione che ha portato allo stato presente che va al di là questo inizio delle date recenti e vede in questo diciamo l'esito di un processo storico che descrive con estrema lucidità il che rende questo abbozzo ovvero dello stato della regione in Italia un documento prezioso come capì subito chi lo ebbe tra le mani questo libro non fu pubblicato in Italia ripeto stampato a Ginevra per la prima volta e finì anche tra le mani della congregazione dell'Indice che il 24 luglio del 1626 diciamo esaminò l'opera c'è una lunga relazione non firmata conservata negli atti della congregazione che ricostruiva le date della presenza in Italia e anche a Roma di Sandis si viaggiava abbastanza liberamente in Italia se c'erano soldi sufficienti c'era una gran tolleranza verso i viaggiatori stranieri anche se non cattolici purché non facessero professione pubblica della loro differenza religiosa definiva Sandis cito dal testo della relazione uomo di intelligenza pratico nelle controversie età gran cognizione delle cose del mondo nell'atto stesso in cui però lo classificava come nemico giurato dei cattolici romani in tutto il libro perpetuo impugnatore del primato e della monarchia ecclesiastica quindi il nemico è individuato e il censore poi aggiungeva che nel scrivere i riti della chiesa romana ne lo da alcuni di quelli onde in Italia si mantiene pura e sincera la religione e in molti luoghi ancora mostra da provare alcune di quelle cose che vengono dai cattolici osservati però ne rigettava il progetto unionista questa idea appunto che aveva mosso Sandis di una conciliazione soprattutto con la chiesa inglese e riconosceva il nemico nell'uso del linguaggio non si poteva andare d'accordo con uno che cito chiama martiri gli eretici condannati a morte e ribelli e traditori cattolici giustiziati dagli eretici questo era il problema insomma per lui per Sandis i martiri erano quelli bruciati dall'inquisizione invece i ribelli alla monarchia inglese li chiamava ribelli perché cattolici li chiamava appunto raditori e effettivamente la conclusione diciamo sul piano dottrinale era che non c'è articolo cattolico che gli non condanne e naturalmente l'informatissimo censore individuo alla mano italiana nella traduzione dice che per lo stile la proprietà delle voci l'intelligenza della lingua importantissimo allora il numero dell'orazione cioè la sua musicalità nei periodi e per l'artifizio della tessitura lo individua in Giovanni Deodati il membro della famiglia lucchese esiliata a Ginevra traduttore del libro definito anche traditore della patria un concetto politico che è divertente trovare sulla penna di un censore romano e solo indirettamente però il censore fa il nome dell'ormai defunto Sarpi quando coglie nelle critiche al concilio di Trento una allusione alla storia del concilio di Trento pubblicata da Spalatro cioè dall'arcivescovo dei Dominis occhio lungo buona conoscenza della realtà delle cose e soprattutto diciamo totale rifiuto da parte romana del progetto unionista che aveva mosso Sandis il quale fra l'altro vide la stampa del suo libro nel 1605 poco prima della congiura delle polveri e il libro fu subito ritirato e bruciato perché nel contesto della questione cattolica che si era manifestata con questo attentato rimasto celeberrimo nella storia inglese nei rituali del Parlamento inglese naturalmente ogni progetto di tipo irenico era andato a farsi benedire quindi questo libro di Sandis ebbe poi una vicenda sua particolare ebbe molte edizioni prima di arrivare di nuovo in Inghilterra dovessero passare dei decenni ma intanto circolò per tutta Europa ed ebbe questo carattere di informazione sugli schieramenti europei di materia e di religione e sulle differenze interne fra cristiani e cristiani resta il fatto che anche quest'opera di Sarpi fu letta altrove un'ultima scheda da aggiungere a questo a questo a questo riassunto riguarda diciamo la volontà romana di conoscere lo stato delle cose della religione nel mondo diciamo il quadro complessivo fatto da Botero rimase sullo sfondo ma in realtà annualmente ci fu una relazione sullo stato della religione ancora questo termine appunto questa definizione sullo stato della religione che venne sottoposto alla congregazione de propaganda fide in modo da studiare le variazioni che stavano intervenendo nei rapporti di forza di numero ovvero in modo da prevedere i pericoli dell'avanzata dei nemici contrastarli opportunamente e soprattutto informare bene i missionari che venivano mandati nel mondo in modo che sapessero che cosa andavano a incontrare ecco questo è il disegno di un genere letterario usato come vedete in maniera molto diversa nel momento in cui si tratta di capire che cos'è la religione vissuta e praticata e quando invece si tratta di capire quali chiese quali strutture politico-religiose si sono stabilizzate grazie alla religione ebbene ma sostanzialmente era un tentativo solo di ricostituire un momento della cultura italiana in cui la circolazione fra Venezia soprattutto e altri paesi europei permetteva questo tipo di incontri era naturalmente un paese fondamentale da questo punto di vista in Inghilterra che viene pubblicato a Machiavelli tradotto non solo viene pubblicata l'informazione della religione cristiana di Francesco Pucci questo letterato toscano che poi finì sul rogo a Roma perché si fidò dell'invito che gli fu fatto grazie alla sua proposta di convocare a Roma un concilio un concilio unonista in cui le differenze venissero appianate grazie appunto al contesto del dialogo ebbene io con questo ho concluso il mio limitatissimo scopo che era quello di comunque di complimentarmi perché questo pezzo così importante dell'opera di Sarpi finalmente possa arrivare tra le mani dei lettori grazie 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 ai relatori grazie a voi per aver seguito mi pare con moltissima attenzione queste relazioni e forse ci vedremo quando il libro sarà uscito questo è un augurio grazie a tutti grazie 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 grazie